Con il risultato di 0 a 5 è terminata la partita giocata allo stadio d'Achille domenica mattina valida per la diciannovesima giornata del campionato di prima categoria a girone A tra GS Troia e la nuova Daunia, seconda in classifica fino a quel momento. A fare la differenza le individualità della squadra foggiana mentre sul fronte giallo-verde errori pesanti hanno permesso agli avversari di avere campo libero. La nuova Daunia grazie a questi tre punti si piazza in testa alla classifica superando il palese sconfitto in casa da città di Trani. Il Troia resta quintultimo a 18 punti ma sono solo 6 le lunghezze utili per raggiungere matematicamente la salvezza.